che mezzo vabbè rispetto al tuo Severino col Montesa rispetto al suo Caino gli sembra una bicicletta com'è? com'è una BCS? è leggera rispetto alla tua dai che la cambi seve ne trovi già là una nuova in Gesù ho preparato tipo il Cuse Gesù quel del 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 è già su a prepararti i percorsi dove è il vito? è già pulire senti apposta invece di venire giù di là è sempre umido se fosse forse spaccato il serbatoio della mia moto non è che il vito è ceppato è caduto nei burroni bene già vedeva perché tu se li hai portato sulla moto te? si ma la moto era lì era lì ma cosa stai cercando la moto? era lì è già lì la mia moglie la mia moglie la mia moglie vito 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 guarda tranquillo non fate arrabbiare il Vito non fate arrabbiare il voto qu'è il rilevo il tono ecco